Giacomo Stucchi, presidente del COPAS, lei ha detto che con queste riforme proposte dal governo Renzi non si deludono le aspettative dei cittadini. Che cosa voleva dire? Sostanzialmente che i cittadini credono che ci sia la possibilità di cambiare la Costituzione, ma naturalmente la cosa deve essere fatta in modo serio. Non devono essere solo interventi di facciata che magari è facile twittare per ottenere un consenso nell'immediato, ma che poi si dimostrano inefficaci e inefficienti per dare risposte ai cittadini. E quindi ci si prende il tempo necessario e si fanno delle riforme che effettivamente rispettino i territori, rispettino le esigenze dei cittadini e siano condivise proprio perché i cittadini vengono informati sulle finalità delle stesse. E a questo proposito lei ha detto che bisogna fare le scelte giuste per poi non doverle cambiare. Che cosa vuol dire? Vuol dire che devono essere fatte scelte ponderate, meditate, essendo certi che la soluzione individuata è una soluzione che poi va bene per qualche decennio. Perché cambiare la Costituzione non è una cosa che si fa tutti i giorni e non vorrei che si verificasse, ho citato questo aneddoto in aula, quello che qualche anno fa è capitato alla Biblioteca Nazionale di Francia quando uno studente ha chiesto la coppia della Costituzione francese e si è sentito rispondere che alla Biblioteca Nazionale di Francia non si tengono i periodici perché la Costituzione francese sta cambiando troppe volte. Quindi la Costituzione va cambiata in una certa direzione ma sicuramente va fatta un'opera che poi permetta alle istituzioni nuove di dare risposte ai cittadini e rimanga per lo meno attuale per qualche decennio.